ciao ragazzi questo video riparte da qui ora siamo a milano lambrate però fra 1 2 e 3 saremo a e voilà siamo a peschiera del garda dove stiamo andando quindi ci vedremo fra boh non lo so 5 mi siamo a peschiera ancora e stiamo salendo sul ponte che non so come si chiama però è una in teoria stiamo cercando un caffè in pratica camminiamo bar carducci ora ci godiamo il nostro ginseng ora dobbiamo decidere se prendere il tagretto per andare a sirmione oppure l'autobus non lo so vediamo grazie